Salve a tutti ragazzi, ben tornati in canzine, oggi siamo qui in live su Twitch, questa live sicuramente la caricherò poi su, senza di caricarla poi eventualmente su Facebook, in modo da un video di canale Irvitch che faccio le live, scusate un attimo. Ok, ogni tanto faremo qualche live di quel giorno, e chi non so, oggi non so, oggi non so mai, perché purtroppo giocare online è una connessione, poi streamare, diventando un pesantuccio. Allora niente, oggi siamo qui a spiegare il Sabre Christ, andiamo a farci una missione, dovrei essere live, dovrei essere live. Allora, allora vediamo un attimo, vediamo un attimo le missioni della campagna che ci sono rimaste da svolgere. Allora, come dicevo, questa qui verrà caricata poi su YouTube, questa è la ventana per gli hacker, perfetto. Un filtro di... Grim, hai ottenuto qualcosa dalle comunicazioni. Ok, abbiamo messo. E dicevo che queste qui verranno caricate poi su Facebook, ho caricato questa live. Giusto per farvi vedere un po'. Riconfigura e prova di nuovo. A chi non mi segue su Twitch, come funziona appunto la live. Allora, qui abbiamo... Web Scrapping in corso. Andiamo... Diversi acusti così ce lo teniamo. Micro camera anche. Trilatore si me lo tengo. Grammatic gas su Facebook. Passiamo. Paricamento completato. Un fucile da cicchino, perfetto. Andiamo. Vediamo un attimo che cosa possiamo combinare. Cosa vedo, Grim? È il posto. Ci sono tre punti chiave dai quali sono accessibili i cavi dei dati. È lì che vanno piazzati i traccianti. Il segno sulla planimetria è l'invio al Duoxat. Comparo altri obiettivi senza farti scoprire il bonus. Lascia il quale degnare. Vabbè, il bonus sarà un po' impossibile da fare. La live, credo, durerà una mezz'oretta, più o meno. Facciamo durare la live una mezz'oretta. Nospida, ci sono le mine, non mi ero accorto. Quindi... Beh, intanto io direi... Io direi che fanno quella cosa. Mettiamo il fucile da cicchino. Il problema è che non sappiamo se ha il casco, quindi dobbiamo andare attento. Qui c'era il casco. Perfetto. Allora, l'obiettivo si trova di... Vediamo un attimo se chiediamo se c'è qualcosa o qualcuno. Allora, vediamo qui. Sonar. Aspida di una mine. Abbiamo una mine di qui. Andiamo un attimo a vedere. Io intanto, ragazzi, intanto mi giro per controllare sull'altro monitor. E' molto efficiente per controllare. Ho perso. Vabbè, comunque controllavate il live, non l'ho detto bene. Sì, stai messo in mando, va tutto perfetto. Ah, ok. E' la prima live, quindi prendo un attimo pazienza. Sì. Restreggio un attimino. Quindi bisogna essere molto attenti alle mine che dobbiamo capire. Ok. Devo abbassare la sensibilità del... dell'analogico. Questo. Ok. Quindi controlliamo tantissimo la terra perché comunque dovrebbe essere bene. Quindi bisogna essere molto attenti. Qui sta tempestando, praticamente. Qui sta avendo. E' eh eh. Piano, piano, piano. E' no. Cazzo! E' vero. E' vero. E' un po' di peccato, fallita, fallita miseramente, andiamo a ritentare, alzo un po' l'eventolo del pc, giusto per farlo raffordare bene, Purtroppo queste missioni, ragazzi, se non si muore un paio di volte, non si capisce bene come far affrontare il tutto per chi viene a vedere prima di tutto i nemici, anche se i nemici, qualcuno, in splinter set, praticamente, vengono raddomizzati, cioè cadono in maniera random ad ogni uccisione, cioè ad ogni morto, in qualche modo, i nemici vengono raddomizzati, chi viene fatta in questa posizione, però bene o male, diciamo che l'area di lavoro è quella. Ecco, qui per esempio, qui, qui. Mi frecchia un po' la cuffia, quindi penso che ci sia qualche minuto sull'auto, quindi non vediamo, non vediamo, non la stringo come va. Allora, in serio, la nostra strada lasciamo la stare per adesso. Allora, gli obiettivi sono il C, di A e B sono laggiù, quindi mi sa che dobbiamo sederci per finire. Allora, io quello che non è capito. Praticamente sono tutti corazzati in questa missione, quindi sarà un po' difficilotto. Questo posto è deprimente. Perché? Una volta ci nasceva la birra, ora è un po' di segno. Ok. Ok. Dobbiamo un attimino vedere dove sta l'altro Dove è andato a finire l'altro Perché molto probabilmente Si trova in zona Io non lo sto vedendo Questa missione è una bomba proprio Non mi è capitata una cosa difficile Praticamente Non so neanche da quanto tempo siamo ormai Allora da sopra ci sarà un modo per salire Io credo che da qui si fosse Che che mi ha scoperto un'altra Che mi ha scoperto un'altra Che mi ha scoperto un'altra Dovrei farcela Allora Vediamo un attimo da qui sopra Possiamo andare Ok Quindi questa è la parte superiore che abbiamo visto prima Da sotto Con i vari casi Allora io direi che cominciai ad attimidare a qualcuno Allora io direi che cominciai ad attimidare a qualcuno Solo che come ci passo da qui Ok Ok Attenzione Quindi quindi adesso dobbiamo andare a trovare Questo non è il lab tutto a chiarare No No assolutamente no Io non ho capito ancora i punti dove stanno Proviamo qui ci c'è qualcosa Questa è la zona laser Qui pagheremo il primo punto Grim sto entrando nei server della sala controllo Qui ci giocheremo un po' con questa missione Un po' direi Il primo punto è a chiarare Il primo tracciante è attivo Altri due e la missione è completata Vabbè i laser non ci interessano Anche se sono disattivati Adesso Dobbiamo trovare Il torcino Che li abbiamo? Ok Ok Questo è andato Qui dovrebbe esserci un altro Solo che non so come raggiungerlo Ok dalla scala Perfetto Vediamo 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 se ci siamo Indenati Ah ma io non lo sto vedendo più Punto c Comunque come missione è abbastanza bella Non c'è nel senso strutturalmente Deve design Dieci Quindi io direi Bombola di gas Ok Ok Anche quello è andato Ma va Ma va Anche quello Questo è il mio Il mio Devo dire Funzione Uh L'ha visto Qualcuno l'ha steso Sparpagliatevi e cercate Ok, intanto è lui, certo No, la telecamera No, non l'avevo più vista Cacchio, fanculo Va bene, come mi sa Primo andato Ora c'è C'è deve essere un altro Vinzone Che francamente non si può essere fugito C'è uno qui fuori Non sono semplici questa missione Non sono affatto semplici comunque C'è chi ha sottovaluto questo gioco Che ha detto che era un vero Splinter Cell E' un puttana di vai C'è un po' Ah, lo Splinter Cell di questo Voi li'vi di un'argo E' un'argo E' un'argo E' un'argo E' un'argo E' un'argo C'è un'argo Che sia sì E' un'argo Es trash Sì E' un'argo Questa Griff C'è un link Questo si sta avvicinando di qua Quindi ... E' un jakim A questo si sta avvicinando di qua Appoggiare Sì, io preparo il letale. Dai! Dai! Lo poteva prendere! Ecco questo è un problema di spazio. Ogni tanto mi si bug quando devo andare vedendo il titolo riguardo. Altro modello faccio, io voglio ridurci l'uno all'altro. Poi non mi prendo le spalle, non mi prendo gli occhi. Da quanto ho capito per uccellerli. Quindi questo anche dovrebbe andare a morire così, ok. Spagli due. Per sicurezza non c'è altro. Attenzione alla mia. Tempestato la mia. Io penso che il suo modo sia... Io... Pagli sporo. Ok. Ok. Non c'è la voce di tosse. Spinter. Ok. Non so dove siamo finiti da qui dentro. Perfetto. Allora. E qui dovremmo avere la visuale. Ottimo. E quello che succede perfetto. Perfetto. Non c'è tutto. Perfetto. Non c'è tutto. Se può andare dappertutto. Scusami per vedere il design. Bene bene. Ok. Da qui adesso. Da qui sopra. Ok. Guarda che sospettività. Da qui. Ok. Quindi da qui ci andiamo. Questa è la base di prima. Proviamo questa ultima volta. poi li insomma mettiamo la nave, sicuramente, allora, qui, giusto, ah ero di qui, ok, vediamo vediamo un attimo, se possiamo scendere a questo lato, qui sono anche raro, Grim sto entrando nei server della sala controllo il primo tracciante è attivo, altri due e la missione è completata intruso abbiamo un uomo vabbè l'importante è che non mi abbiano scoperto quindi non c'entra siamo stati scoperti, vi porto via da lì niente da fare ragazzi, niente da fare non c'è un live, non c'è da quanto stiamo streamando, non c'è un pochettino si, non c'è un pochettino, si, non c'è un pochettino, si, non c'è un pochettino, facciamo un pochettino il tipo quindi va e viene, ok perfetto, questa volta c'è bene, non c'è la flash drive sta di fuori fuori sta ecco il bug vedi? da qui da qui da qui spider gayblogan molto uguale a gayblogan non so chi lo conosce gayblogan ma questa possiamo trovare come scala perfetto ma qui dove siamo? qui c'è un pannello ok collega qualcosa quel pannello sicuramente qualche una serra quindi eeeh ci trovavamo qui no ma questo è diverso da quello per lì eh ok io devi andare da qui ok 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 Grim sto entrando nei server della sala controllo Il primo tracciante è attivo Altri due e la missione è completata Quindi il punto A si trova molto più in basso Vai 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 adesso Vai adesso Quindi non c'è possibilità di scendere? No Quindi ho capito dove andare a rafforzare Non c'è Mi hanno detto che qui c'era qualcuno No cazzo Non me l'ho beccato Che fortuna Ok Io sinceramente non ho ben capito dove sia il punto A Ok abbiamo lo chiedo adesso Perfetto Adesso si è capito dove stanno Bene Grimm accedo ai loro sistemi Eh dobbiamo trovare il punto B adesso Il punto C c'è rimasto in questa tutta altra zona Dice ovviamente che bisogna fare più tentativi Secondo tracciante attivo Ne manca solo uno Questi due non mi friggono Perfetto Io non ho capito Il punto C sta lassù Devo farmi tutto Tutto il giro devo farmi praticamente Non c'è un modo per salire d'acqua fuori Ma che cosa stai fareò qui qui Ma che cosa stai insieme per fuori Ma che cosa stai insieme per la nuova Un pietro Edilita Quindi, 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 che cosa facciamo? Tornare lì, quindi lui fa sempre quello, se si muove, se si muove, se si scende, personaggio. Come si muove l'amore, se si muove la città, per esempio, se si muove la città. quel strumento? Da' sdd, ovvero, pivo normale, ma oggi! Тут buona pivovaria, a u nas toque cagata aslinna a macchetta. Nacherana suda poslali. Sui stru. Scorre'e b' отсud'a ubratza. E quel tubo come l'ho da chucco? Se ci fosse un modo, me lo chucco? Si. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai accorgili. Accorgili. Accorgili che è morto. Dai si sta per accorgili dai forzi 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 forzi. E' morto, eccolo, è morto. Bene. E' morto. E' morto. Mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato. E' morto. E' morto. E' morto. E' morto. E' morto. E' morto. Andate al punto di estrazione e non fatevi vedere, altrimenti perdiamo tutti i dati. Capito. E' morto. 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 Grazie.